Quindi, ok, registra, riprendiamo, ecco, abbiamo lasciato tutto qui con lo stato inizializzato, abbiamo un valore iniziale della useState che è esattamente quello di prima e abbiamo solo cambiato mettendo dentro una variabile di stato creata con la useState di React il valore che corrisponde all'array che mi interessa visualizzare nella tabella, ok? Quindi abbiamo cambiato poco rispetto a prima, c'è uno stato che però, come vedete, siccome la setlist non è mai chiamata, non è mai modificato. Allora, visto che questo stato è un qualcosa di un po' più complicato di avere semplicemente, come abbiamo visto negli esempi, un boolean, un numero o una stringa, prima di procedere e andare a fare delle modifiche come noi dovremo andare a fare nel momento in cui vogliamo far funzionare il bottone di voto, quindi andare a modificare un valore che è lo score dentro un oggetto che è dentro un array che abbiamo messo dentro lo stato, quindi è un po' annidata la cosa, vi racconto come andare a gestire nella maniera migliore le variabili di stato che contengono un array. Ok, questa cosa la troviamo nel blocco di slide successive, e forse con una scelta un po' infelice l'abbiamo messa appunto dopo i forms, che però non facciamo oggi, almeno che non ci avanzi proprio tantissimo tempo, allora possiamo iniziare, direi che non facciamo, ma in questo blocco di slide, che vi faccio vedere appunto per farvi capire dov'è che sto andando, andiamo a vedere queste ultime 6 slide, che raccontano come gestire nella maniera migliore gli array, quando questi sono inseriti in una variabile di stato, creato con la useState di React. Allora, prima di tutto dobbiamo capire che lo stato in React è un valore che React testa per andare a vedere se deve fare il re-render oppure no. Se noi lasciamo lo stesso valore dello stato, il re-render del componente non avviene, perché funziona come le props, React decide sulla base del valore delle props rispetto a prima, se qualcosa è cambiato fa render, stessa cosa per lo stato. Quindi, se noi aggiorniamo un array, prima di tutto, regola numero 1, dobbiamo sempre, 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 sempre ritornare un nuovo array, anche se l'array ha la stessa dimensione e punta agli stessi oggetti. Perché, se no, React cosa può vedere? Dallo stato vede il riferimento ad un array e lo stesso di prima, React non va a spacchettare tutto il contenuto dell'array, perché se no, l'efficienza che ha nell'andare a verificare quali sono le modifiche andrebbe a pallino. Cioè, avrebbe tutte le volte da verificare tantissime cose, cosa che non fa. Quindi, se noi vogliamo segnalare a React che qualcosa è cambiato nel nostro stato, dobbiamo ritornare un nuovo valore, che esso sia un valore immediato, come sono i boolean, i numeri o le stringhe, e questo, boh, è facile, o che sia un riferimento, quindi che sia un oggetto o un array. Per cambiare il riferimento ad un array bisogna creare un nuovo array, non c'è altra via. Ok? Vi ricordate la prima lezione, abbiamo visto il Python Tutor, in quelle frecce, no? Se io faccio un array 2 uguale array 1, sono due frecce che vanno allo stesso array, cioè lo stesso riferimento. Io devo creare un nuovo array, quindi questo sempre. Ed è per questo che mi vengono così comodi quei metodi funzionali per manipolare gli array, perché ritornano sempre un nuovo array e quindi mi risolvono il problema automaticamente. In particolare, mi verranno comodi due metodi, la map e la filter, che vedremo tra poco nelle slide. In più, se dentro l'array non ho dei valori immediati, quindi come sono appunto i boolean, i numeri o le stringhe, che sono tipi primitivi, ecco, chiamiamoli tipi primitivi, che è forse più appropriato, ma ho dei riferimenti a cose più complicate, quindi altri array o altri oggetti, devo fare attenzione che anche lì devo creare dei nuovi riferimenti, se ho modificato qualcosa dentro quegli array e quegli oggetti. Perché React cosa fa? Va a vedere il valore dello stato. Se il riferimento è cambiato, dice, ok, qui c'è qualcosa da verificare. Che cosa è cambiato? Va dentro l'array, scorre l'array, vede dei riferimenti, nel nostro caso avremo dei riferimenti e degli oggetti, bene, il primo oggetto ha lo stesso riferimento, allora vuol dire che non è cambiato, non lo apro, non mi interessa. Il secondo è uguale, non lo apro, non mi interessa. Il terzo riferimento è cambiato. Dentro questo oggetto vado a vedere cos'è cambiato. Quindi apro l'oggetto, entro dentro e vado a verificare ogni proprietà, il valore di ogni proprietà. E a sua volta, se sono tipi primitivi, si vede immediatamente se è uguale e il discorso finisce lì, se sono riferimenti, anche lì, se il riferimento è cambiato, vado ad aprirlo, se il riferimento non è cambiato, vuol dire che è rimasto tutto uguale, ok? Quest'operazione è fatta da React automaticamente, ricorsivamente, solamente quando i riferimenti sono cambiati. Ciò ha l'implicazione che tutte le volte che noi vogliamo dire che qualcosa nello stato è cambiato, dobbiamo cambiare il riferimento, cioè creare un nuovo array, un nuovo oggetto. Anche se l'array di per sé non è cambiato, cioè io ho tre elementi e restano tre elementi. Ma per dire a React di andare ad aprire quell'oggetto, quell'array, devo cambiare di riferimento, quindi devo creare un nuovo array, ok? Questo è per come funziona React, ok? Questa è una cosa specifica di React che in un altro framework potrebbe essere implementata diversamente. Ci sono altri approcci a risolvere questo problema, più pesanti, meno pesanti, ogni framework ha i suoi vantaggi e svantaggi. React, per gestire lo stato in maniera efficiente, secondo la sua filosofia, ci impone questa cosa. Ok, quindi, regola numero uno, cambiare il riferimento all'array, e poi se contiene oggetti, cambiare il riferimento all'oggetto che è cambiato e così via, o agli oggetti che sono cambiati e così via. È chiaro che se cancello una cosa, la faccenda è semplice, no? L'array si accorcia, devo solo creare il nuovo array, no? Non c'è niente da cambiare nell'oggetto, perché l'oggetto è sparito, quindi... Se invece lo creo dal nulla, ovviamente compare dal nulla, quindi è nuovo, la questione si pone nel caso della modifica, come vediamo nelle slide successive. E poi? E poi il nuovo stato dipende dal vecchio stato, perché se io faccio una modifica ad un array, vuol dire che sto prendendo il vecchio array, e lo sto modificando, quindi lo stato nuovo, il nuovo array, dipende dal vecchio. Quindi l'operazione va fatta con una callback. L'unico caso in cui non ho bisogno della callback, qual è? È il caso in cui io so già che cosa mettere, cioè un array vuoto, un array che ha già pre-inizializzato con qualcosa. Allora lì posso evitare la callback. Cioè sto facendo il reset, diciamo così, di quello stato. Cioè il valore nuovo è fisso. Se no, devo andarlo a calcolare sulla base del valore vecchio. Per farlo correttamente ho bisogno di questa callback. Ok, quindi, tre casi che andiamo a vedere sulla gestione degli array, che sono i più comuni, sono quelli che vi troverete, non voglio dire 100%, ma 99,9% all'esame per il progetto, perché ci sarà un array di oggetti da gestire, perché se no abbiamo un'applicazione veramente banale, troppo banale. quindi negli array cosa facciamo? Possiamo aggiungere elementi, possiamo aggiornare elementi, possiamo rimuovere elementi, non cancellare elementi, dite come volete. Vediamo in questo slide come farlo correttamente, poi dobbiamo solo applicare questo concetto nel nostro esempio. Allora, aggiungere elementi, Allora, prima di tutto, non facciamo l'errore di fare push, perché push ritorna il numero degli elementi, e poi lavora sullo stesso array, quindi non abbiamo creato un nuovo array, quindi il push va bene per giocare quando imparate javascript, ma in questo caso non va assolutamente bene. Per raggiungere alla fine, usiamo il metodo punto concatena, e concateniamo il nuovo elemento, che avremo creato in qualche maniera, potrebbe essere numero, string, eccetera, un oggetto più complesso, quello che volete, a seconda del vostro caso, nel nostro caso potrebbe essere una nuova risposta, quindi un oggetto più complesso, e lo concateniamo alla vecchia lista, al vecchio array, e concat ritorna un nuovo array, quindi va benissimo per il nostro caso, ok? Quindi non è che prende il vecchio e in place aggiunge un elemento, come fa push, crea un nuovo array, in cui ci copia tutti i valori del vecchio, e in più il nuovo elemento, o array che ho dato. Ok, lo facciamo sotto forma di callback, perché non sappiamo quando l'aggiornamento di stato viene eseguito, e è eseguito in maniera sincrona, come abbiamo detto prima questa mattina, quindi dobbiamo farlo in questa forma, in maniera che sia garantito che questa operazione viene prima o poi eseguita. Ok, quindi questa è l'aggiunta alla fine, se la volete aggiungere all'inizio, la cosa più semplice per farlo, siccome non c'è un metodo apposta, non possiamo mettere qui shift, unshift, eccetera, che operano in place, non vanno bene, creiamo un nuovo array, aperta quadra, col nuovo elemento, e lo spread di tutto il vecchio array. Questo, aprendo la quadra, crea automaticamente un nuovo array. Aperta quadra, nuovo array. Avremmo potuto farlo anche qui a sinistra, se vi piace lo spread, aprite la quadra, spread del vecchio, virgola, nuovo. Diciamo, c'era il metodo apposta, ve l'abbiamo fatto vedere, ci sono come sempre in tutta la programmazione, magari più modi di risolvere lo stesso problema, che ci troviamo ad affrontare. Se avete dei dubbi, ci sono i laboratori, chiedete, oppure vi informate, provate, verificate, e così via. Quindi, questo è un caso abbastanza semplice, se no, l'aggiunta, creiamo un nuovo array, c'è solo da mettere il nuovo elemento. Non è importante che i vecchi elementi abbiano gli stessi valori o riferimenti, perché se non sono cambiati, a noi va bene così, va bene anche dire a React che non c'è nulla che è cambiato, anzi, è la cosa migliore da fare, perché lo rendiamo più efficiente, perché se no, se vede il riferimento cambiato, deve andare a riesplorare tutto il contenuto e confrontarlo. Ok. Aggiornamento, che è la cosa più difficile ed è quella che andiamo a fare stamattina, perché io col voto voglio cambiare un valore dentro un oggetto, dentro un array, che è lo score, ho tre, voglio portarlo a quattro, voglio fare più uno, ma è un valore, quindi una proprietà di un oggetto che è la risposta, dentro un array, che è la lista delle risposte. Come faccio? Allora, la map è la funzione più, diciamo, indicata per fare questa operazione. Perché? Perché la map mi scorre tutti gli elementi dell'array creando un nuovo array. Quindi la map, per definizione, crea un nuovo array. Per questo che ci abbiamo tenuto a farvela vedere a inizio corso, non tanto perché non ci piaceva scrivere i cicli for, e si può rifare tutto col for, apriamo una quadra, facciamo un bel for, i push, tutto quello che vi piace, apriamo la quadra per il nuovo array, eccetera, però c'è una funzione che viene così comoda, la usiamo, la map. Quindi, la vecchia lista, punto map, la map prende una callback che deve ritornarci per ogni elemento, il valore da mettere nel nuovo array. Se nulla è cambiato, possiamo tranquillamente mettere il vecchio, quindi nella callback, apriamo la graffa, perché dove scrive un po' di codice, se nulla è cambiato, che ramo else, return item, cioè l'elemento del vecchio array. Però ci sarà un caso che quello che vogliamo aggiornare, in cui non ritorniamo il vecchio elemento, ma ritorniamo il nuovo, calcolato sulla base di quello che dobbiamo fare, anche sulla base della vecchia informazione. Per esempio, qui abbiamo un array semplice, nella slide dopo, sì, c'è un array più complicato, qui c'è un array semplice, sono numeri. Quindi qui abbiamo un certo valore, in una certa posizione, che sono i, diciamo i1, quindi prendiamo il 42, quando scorriamo il nostro array, il secondo valore della callback, che è l'indice nell'array, quindi j, vale 1, uguale a 1, ok, allora facciamo più 1 sull'elemento, e quindi avremo un nuovo array, un nuovo riferimento, che avrà dentro 11, 43, 32, ok? Mi raccomando, il nuovo array, non possiamo, qui dentro, scrivere, hold list, freccia, cos'è che scriveremo, hold list, aperta quadra 1, uguale, no, più uguale 1, return hold list, questo è sbagliato, non possiamo usare il vecchio array, facendoci dentro la modifica nella casella che ci interessa, dobbiamo creare il nuovo array, quindi o ce lo creiamo a mano, come dicevo prima, scomodo, oppure usiamo la map, e vuol dire che nella callback della map, dobbiamo andare a mettere un if, che, mano a mano che scorriamo l'array, ci identifica i casi che dobbiamo modificare, e ci dà il valore modificato corrispondente, ok, è chiaro per tutti, spero, se poi proviamo, proverete in laboratorio, perché avrete sicuramente da fare questa operazione, forse non nel prossimo laboratorio, immediatamente, ma in quello dopo, perché è un'operazione fondamentale da saper fare, se abbiamo un array più complicato, come abbiamo nel nostro caso, che tra poco andiamo a vedere, col codice, quindi abbiamo degli oggetti, come elementi dell'array, e non abbiamo dei numeri, anche l'oggetto, come vi dicevo prima, va creato nuovo, perché l'oggetto è un riferimento, non posso solo cambiare il valore della proprietà dell'oggetto, perché React, se no, si ferma e dice, ok, sono riferimenti uguali a prima, mi hai cambiato l'array, il riferimento è l'array, ma non mi hai cambiato gli oggetti, quindi, mi hai ingannato, in un certo senso, e non vado a aggiornare tutto quello, che dipende dall'oggetto che hai cambiato, perché io non l'ho visto cambiato, ho visto lo stesso riferimento, quindi, come si fa? Come prima, stesso approccio, map, va benissimo, la callback, l'elemento, se è l'elemento che mi interessa, e qui devo avere un meccanismo, in grado di identificare l'elemento, può essere come prima l'indice, io volevo cambiare il secondo, ho messo indice uguale a 1, va benissimo, ho l'id, perché qualcuno mi ha messo un id unico, va benissimo, testate quello che volete, non interessa, quello che interessa è non fare la riga sopra scritta in grigino, infatti sbagliata, ma quella sotto, che è il return di un nuovo oggetto, perché? perché ho aperto graffa, se apro graffa si crea un nuovo oggetto, se io faccio item.val, l'oggetto c'è, è sempre quello però, il problema è che è sempre lo stesso, posso andare a modificare le proprietà dell'oggetto, in javascript è tutto pubblico, quindi è tutto accessibile, io modifico le proprietà dell'oggetto, ma ho lo stesso riferimento, io qui voglio un riferimento diverso, allora apro la graffa, e mi costruisco un nuovo oggetto, eventualmente copiando i vecchi valori, che mi interessa trattenere, anche tutti, ad esempio dopo copiamo tutto, e poi sovrascriviamo quello che ci interessa, e il valore, qui volevo aggiornare il val, e lo aggiorno, mentre creo il nuovo oggetto, altrimenti come prima ritorno al vecchio oggetto, va benissimo il vecchio oggetto, se nulla è cambiato, ok? mi raccomando, questo è da ricordarsi, attenzione che magari in laboratorio, testate e mi dite, ah funziona lo stesso, allora, in laboratorio, quello che proviamo, è una cosa, però stiamo sviluppando, in modalità sviluppo, proprio lanciamo l'ambiente, in modalità sviluppo, che vuol dire, che React, fa tanti più controlli, di quelli che farebbe, in un'applicazione vera, che deve cercare, di funzionare, in maniera più efficiente possibile, quindi è possibile, che in laboratorio, certe cose funzionino, ma poi, in un'applicazione vera, non funzionino, noi vi spieghiamo, come far funzionare le cose, nell'applicazione vera, ovviamente, dove, cerchiamo la massima efficienza, cioè, React, cerca la massima efficienza, quindi questa è la maniera corretta, di far funzionare, lo stato, ultimo caso, rimuove, un elemento, da un array, che sta in uno stato, allora, questa è la maniera più semplice, c'è la filter, dicevo prima, map e filter, filter, su tutti gli array c'è la filter, ritorno a nuovo array, e il nuovo array, quindi è un nuovo riferimento, avrà solo gli elementi, che diciamo, di includere, cioè quelli, per cui la callback, testa true, e noi scriviamo, una callback, che testi, cioè che ritorni true, tutte le volte, che ci interessa, se dobbiamo eliminare, un unico elemento, in una certa posizione, avremo questa posizione, che ci interessa, i, quindi come prima, diciamo, i uguale a 1, quindi il 42, se i è diverso, dall'indice corrente, quindi 1 è diverso da 0, il primo lo tengo, 1 è diverso da 1, no, quindi verrà buttato via, 1 è diverso da 2, sì, e quindi verrà tenuto, e quindi avrò alla fine, un array, 11 e 32, ok, nuovo array, nuovo riferimento, all'array, qui ho dei tipi primitivi, per cui il problema di prima non si pone, ma anche se non avessi dei tipi primitivi, il problema di prima non si porrebbe lo stesso, perché tanto elimino l'oggetto, quindi l'oggetto non c'è più, non c'è il dubbio se c'è cambiato, non c'è più, come all'inizio ce n'è uno nuovo, e per forza che è nuovo, l'ho messo, e prima non c'era, ok, quindi questo è un esempio di rimuovere un qualsiasi elemento, oppure potete giocare con il solito spread, e aggiungere, togliere all'inizio, alla fine, come ritenete, o nel punto che ritenete, secondo di quello che desiderate fare, e quindi, che so, rimuoviamo il primo elemento, si potrebbe fare tranquillamente con la filter, con i uguale a zero, va benissimo, se no, possiamo fare l'operazione con lo spread, e quindi, assegnare dal vecchio array, a un nuovo array, che in realtà, questo con le quadre buttiamo via, ma il list, spread list, è il nuovo array, che viene creato durante l'assegnamento, e quindi ritornare a questo nuovo list, questo è un esempio, dovete sempre avere ben presente, se viene creato un nuovo riferimento, all'array oppure no, se avete dei dubbi, prendete questo pezzettino di codice, solo questo pezzetto, queste due righe, e l'inizializzazione, la mettete nel python tutor, vedete le frecce, se si crea una nuova freccia, si crea un nuovo riferimento, ok? Ok, quindi, sostanzialmente, abbiamo gestito i tre casi importanti, di cui il più difficile, è quello dell'aggiornamento, per, la gestione di un array, dentro uno stato, non ci sarà sempre, da gestire un array nello stato, ve lo dico, l'array nello stato, ci sarà da gestire, quando abbiamo una lista, di cose da far vedere, magari avete il caso, di un oggetto, se avete una serie di elementi, non so, da visualizzare, delle proprietà, le informazioni riguardo, che so, all'utente, non so, potrebbe essere un oggetto, una lista è, appunto, di solito, una lista di cose, da vedere, in una tabella, in una lista, html, però, bisogna saperle gestire, ok, questo lo possiamo anche vedere, poi dopo, quando abbiamo parlato, di stati locali, per il, per i form, che però, mi sa che, maggior parte, andrà la prossima volta, quindi, torniamo alla nostra applicazione, abbiamo fatto tutte queste precisazioni, perché adesso abbiamo l'array, da gestire, nello stato, l'abbiamo messo prima dell'intervallo, e, e quindi, dobbiamo modificarlo, dobbiamo modificarlo, quindi, perché, perché noi vogliamo far funzionare il bottone, vote, quindi vorremmo che, questo score 3, diventi 4, questo score 3, dove sta? Sta, in questo momento, in my table, c'è look, c'è lo stato, e ci sono questi 4 oggetti, non so se si ingrandisce, no, ci sono questi 4 oggetti, e noi dobbiamo andare a prendere, l'oggetto corretto, e andargli a modificare, il valore della proprietà score, facendo score più 1, rispettando tutte le regole, che abbiamo detto un attimo fa, quindi creando il nuovo array, e creando un nuovo oggetto, per quel, per la specifica posizione dell'array, ok? quindi, questo è quello che dobbiamo fare, questo è la parte di modifiche dell'array, la seconda parte, o prima, a seconda di cosa decidiamo di fare, è, l'aggancio dell'evento click sul bottone, perché in questo momento, i bottoni non fanno nulla, perché? perché l'evento del click, non è agganciato, cioè, non ha un event handler, l'event handler di default, di default, sui bottoni, è, fai niente, non fare nulla, il browser non fa nulla, allora, facciamo, la cosa più semplice prima, l'event handler, perché così, piano piano, costruiamo, quello che ci serve, perché se non agganciamo l'evento, diciamo, tutto quanto resta morto, finché non possiamo, fare un'azione, che scatena, del nostro codice, non abbiamo nulla da vedere, no? cioè, è bello scrivere il codice, ma poi non possiamo testarlo, io vi invito, ogni volta che scrivete un pezzettino di codice, se è possibile, di testarlo, quindi, se avete la possibilità, di generare l'evento, che lo scatena, provate, piuttosto con un console log, come facciamo noi, ma andate a provarlo, quindi, questo è il bottone, che noi abbiamo messo, nella nostra riga, della tabella, on, click, aperta, chiusa graffa, e dobbiamo scrivere, una callback, che faccia qualcosa, ok? Allora, prima di tutto facciamo, una callback, mi raccomando, è una callback, vuol dire, che apriamo, chiudiamo, la tonda, freccia, e, cominciamo, con la cosa più semplice, così, ricostruiamo l'applicazione, passo passo, io spero che vi piaccia, questo modo di procedere, potrei darvi la soluzione, e commentarvi la soluzione, ma, se non facciamo così, poi in laboratorio, siete piantati, non sapete come andare avanti, console, log, potremmo mettere, semplicemente, click, ok? però, diciamo, qualsiasi bottone, poi, ci scrive click, io vi metto dentro, diciamo, click, va bene, però, anzi, mettiamo uno spazio, più, abbiamo una maniera, di identificare la riga, ma, mettiamo, cosa possiamo mettere, avremo l'id, però, non lo vediamo, mettiamo, il text, eh, che è vero che non è unico, ma tanto qui stiamo solo facendo una prova, ok? Quindi, adesso, salvo, l'applicazione, se non ci sono errori, cosa che, dovrei vedere una console, dovrebbe essersi auto aggiornata, questa è la capacità, che ha, white, che abbiamo usato, l'altra volta, per creare l'applicazione, oppure, create react app, se qualcuno lo usa ancora, e così via, di, diciamo, evitarci, di fare tante azioni, noi, durante lo sviluppo, quindi, di velocizzarci lo sviluppo, dovrebbe essersi aggiornata, quindi, proviamo a fare, clic su vote, sulla prima riga, no, non funziona, perché, cosa ci manca, allora, ricarico l'applicazione, no, c'è, non si era aggiornata, non funziona al 100%, forse ho fatto qualcosa io, no, ho salvato, quindi, boh, eh, ok, quindi, mi scrive, clic, for off, se io, premo, il secondo bottone, clic, for, eccetera, eccetera, ripremo il secondo bottone, vabbè, mi, mi ha scritto qui, premo il terzo bottone, eccetera, quindi, ho agganciato l'evento, sono già contento, eh, quindi, questa è una possibilità, eh, adesso, eh, anziché il console.log, ho bisogno di avere una funzione che mi modifichi lo stato, quindi, mi vada a dire di modificare lo stato, che però non si trova in main row, si trova in my table, ok, e quindi, dicevamo prima, io devo trovare una maniera per passare, eh, un evento che si è verificato in my row, che sta sotto il my table, al my table, perché il my table è l'unica che può andare a chiamare set list, con tutto quel codice che abbiamo visto prima sulla slide, e modificarmi l'array. Allora, procediamo per passi, prima di tutto creiamo una funzione, che noi passiamo dal my table, al my row, e che possa essere invocata, nel handler dell'evento, nel my row, ok, quindi, qui mettiamo, nella table, eh, function, eh, scusate, com'è che l'ho chiamato, vabbè, diciamo increase score, eh, così è già scritta bene, increase score, eh, diciamo id, ok, per ora non lo facciamo, facciamo solo, console log, eh, increase, score, eh, id, due punti, id, ok, quindi, questa è una funzione, che noi, adesso, passiamo, come prop, a my row, come facciamo a passarla come prop? Dobbiamo creare un attributo, un attributo del nostro, eh, componente, passato al nostro componente, prima, dopo, fa lo stesso, tanto props è un oggetto, e quindi, l'ordine non ha importanza, eh, mettiamo, increase score, uguale, non so, eh, increase score, ok, in questa maniera, abbiamo, una props, increase score, dentro, my row, che arriva, che noi possiamo, eh, richiamare, ok, quindi, se torniamo sopra, al posto del console, log, eccetera, qui, possiamo scrivere, increase score, ok, e di come facevamo prima, e, punto, non il text, io metterei l'id, ed è il motivo per cui vi ho fatto aggiungere l'id, perché così l'id è unico, eh, e ce lo possiamo gestire dove vogliamo, ok, sottinteso che il, una delle props che viene ricevuta, è, e, e che è, quella che io ho scritto qui sotto, e, eh, che è l'elemento, che è l'oggetto che io voglio visualizzare in quella riga, eh, e, che è quello che io vado a prendere dalla lista, eh, ogni volta, un nuovo oggetto, in questo oggetto ho tante proprietà, proprietà dell'oggetto, eh, non props, quindi ho la date, text, respondent, score, ma ho anche l'id, perché io l'ho creato così, anche con l'id, ok, quindi questo me lo porto dentro, e quindi ho a disposizione, oltre alle varie informazioni, anche id, che di solito non visualizza l'utente, perché all'utente non interessa nulla l'id del database, o l'id che ha quella risposta, ma può essere utile per me, perché è garantito essere unico, e quindi è utile per fare le azioni di identificazione della risposta, ok, quindi notate che le props possono anche essere, non solo tipi primitivi, ma altri oggetti, quindi io ho props.e, che è un altro oggetto, ok, che è l'oggetto che io passo in fase di creazione del componente. Vi ricordo che questa scrittura, che vi può sembrare criptica, se non vi piace potete anche non usarla, usarne una più semplice, vuol dire, tira fuori da props, la proprietà, che si chiama e, e mettila in una variabile, che mi metti a disposizione, e che chiami nella stessa maniera, se non vi piace scritto così, che è tanto javascript, come stile, potete semplicemente scrivere, const.e, uguale, props, uguale solo, props.e, ok, è la stessa identica cosa, ok, se vi viene più comodo, vi piace di più, scrivete pure così, questo non è oggetto di valutazione all'esame, potete scrivere, il javascript è convoluto, il javascript è semplice, non cambia assolutamente nulla, ok, l'importante è non scrivere cose sbagliate, nel senso che se, se volete per forza usare questa push, al posto della map, che sia fatto tutto correttamente, quindi si crea il nuovo array, si fa la push, eccetera, non è che mi piacerà tantissimo, ma se è corretto, lo accettiamo, ok, non mi piace tantissimo, ma perché, perché rischiate sicuramente, di aver combinato dei pasticci, perché tutti quelli che ho visto, che hanno usato, per dire la push, al posto della map, prima o poi un pasticcio l'hanno fatto, ma perché, perché bisogna fare tre volte più attenzione, poi avete poco tempo, dovete concludere il progetto e tutto, e quindi, diciamo, cercate di seguire i nostri consigli, che derivano anche un po' dall'esperienza nostra, e dei vostri colleghi, che abbiamo visto all'esame negli anni passati. questo però, appunto, questa riga è del tutto indifferente, quindi abbiamo questo increase score, e id, che dovrebbe darci, farci una, ah, scusate, però, increase score, qui non esiste, questa è props, increase score, ok, perché increase score, qui non l'ho definita, se lo eseguo così, mi viene fuori un errore, il javascript mi dirà, increase score, boh, undefined, cosa ci chiami sopra, cosa vuoi chiamare, quindi props, increase score, invece esiste, perché io, lo creo qui, e passo, il riferimento alla funzione, proviamo il codice, eh, allora, ricarico, e quando fate un po' di modifiche, magari ricaricate, così state tranquilli, perché altrimenti, magari rischiate che funzioni, come mi è successo a me, prima, e in realtà, non vedete funzionare, non capite perché, ma non c'è nessun motivo, allora, clicchiamo su vote, increase score, id 1, clicchiamo sul secondo, 5, 3, e 6, erano questi i numeri, che ho messo nel codice, eh, 1, 5, 3, 6, sì, quindi, funziona, abbiamo in questo momento, una maniera, di agganciare un evento, su my row, e di portare l'azione, dentro il componente padre, che è il my table, ok, quindi siamo arrivati, ad eseguire il console log, nel componente padre, my table, a questo punto, visto che abbiamo il console log, facciamo l'azione, di aggiornamento, dell'array, che è dentro lo stato, come facciamo, verrebbe da dire, copiamo dalle slide, abbiamo messo quelle slide apposta, per evitare che uno faccia dei pasticci, nel momento in cui, deve fare questa azione, allora, l'operazione inizia, con set list, perché se voglio aggiornare uno stato, devo sempre, 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 usare la funzione, fornita dalla use state, non c'è altro modo, se io scrivo list uguale, ho già sbagliato, allora, set list, poi devo chiedermi, lo stato nuovo, dipende dal precedente, o no? risposta, sì, callback, risposta no, posso mettere direttamente il valore, allora, in questo caso, la risposta è sì, perché, prendiamo il vecchio, dobbiamo fare più uno, no? o dovete fare qualche altra operazione, matematica, o matematica non fa nulla, nel momento in cui arriveranno i dati del server, prenderete e metterete, non ci sarà dipendenza dal vecchio, perché dovete sostituire, se dovete sostituire, non c'è dipendenza dal vecchio, si può direttamente mettere, quindi non c'è bisogno da callback, se invece calcolo qualcosa, sulla base dello stato precedente, devo fare questa operazione, allora, callback, quindi aperta e chiusa tonda, come chiamiamo, old list, la chiamo old proprio per far capire, cosa viene passato come parametro a questa callback, potrei chiamare tutto list, ma poi non si capisce più nulla, a leggere, ovviamente javascript non si confonde, allora, old list, freccia, qui dentro, non devo modificare old list, devo ritornare il nuovo array, ok? non devo toccare l'old list, old list è un parametro che viene passato, per darmi a disposizione il vecchio stato, e consentirmi di farci i calcoli sopra, quindi, ho aperto la graffa, allora devo scrivere return, se non aprivo la graffa, potevo scrivere direttamente, il valore, adesso scrivo return, va bene, quindi, old list, dicevamo, con la map, la map prende una callback, che agisce su ogni elemento, e su ogni elemento andiamo a fare, la verifica, se quello che ci interessa, lo modifichiamo, quindi ritorniamo un nuovo valore, che nel nostro caso sarà un nuovo oggetto, altrimenti, ritorneremo al vecchio elemento, e quello, come dicevamo prima, non abbiamo bisogno di modificarlo, quindi, if, e.id, uguale, uguale, id, che è il parametro passato alla funzione, io vi invito a mettere sempre il triplo uguale, perché così siete sicuri di non confrontare mele con pere, cioè, se più aspettate che l'id sia numerico, qualcuno vi deve passare un id numerico, perché, se cominciate con le conversioni implicite, string a numero, finisce che da una parte avete le stringhe, dall'altra avete i numeri, ogni tanto vi funziona, ma ci saranno dei casi in cui avete fatto confusione, poi non funziona più, e non li trovate, invece, se non vi funziona col triplo uguale, vuol dire che, magari trovate prima il punto potenzialmente problematico, comunque, questo è una cosa di programmazione javascript, che potete gestire un po' più per conto vostro, allora, se è uguale, è quello che devo sostituire, altrimenti, ho aperto un po' di graffe, perché così lascio spazio, facciamo prima il caso, altrimenti che è quello semplice, return e, facile, questa è la callback della map, quindi la map ritorna, per ogni elemento, l'elemento da inserire nel nuovo array, qui, se non è cambiato, è il vecchio, va bene il vecchio riferimento, anzi, è bene avere il vecchio riferimento, perché così, react, non va a verificare, se quello è cambiato, perché vede stesso riferimento, quindi assume che non si è cambiato, quello sopra, quindi return, devo creare, un nuovo oggetto, che contenga, tutto ciò che c'è nel vecchio, ma sostituisca, il valore di score, con score più uno, che è quello che volevo fare, volevo fare più uno, allora, come faccio, apro le graffe, creo un nuovo oggetto, e questa è una possibilità, ma se faccio così, sono io che devo ricordarmi, di copiare tutte le proprietà, del vecchio oggetto, quindi dovrei fare, e punto, no, cos'è, come è fatto il vecchio oggetto, c'è lì sopra, e punto date, no, anzi, non è, si, date, dovrei scrivere, date, e punto date, no, text, due punti, e punto text, eccetera, 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 e questo è l'eccetera, non è lo spread, per dire, devo scrivermi tutto io, e quando arriva lo score, score, e punto, score più uno, ok, questa è una possibilità, è corretta, non c'è nulla di male, nel fare così, ma come sempre, io cerco di insegnarvi qualcosa, in più, eh, qui, sono io, che devo evitare di scordarmi, le varie proprietà dell'oggetto, cioè, se ci sono quattro proprietà, ecco, vedete, mi sto già scordando l'id, no, perché, non lo vedo qui nella lista, e mi scordo l'id, e il prossimo giro, non ho più l'id, così il bottone non funziona più, che non trova più l'id, e così via, no, quindi, come ogni volta che programmate, dovete fare attenzione, a cosa potenzialmente volete fare, in futuro, no, con il vostro codice, cercate di scrivere del codice, che sia il più riutilizzabile, e il meno, come dire, che faciliti, meno possibile, l'insorgenza di errori, allora, se noi, anziché, creare l'oggetto da zero, ricreando tutte le proprietà a mano, prendiamo l'oggetto, ne creiamo uno nuovo, copiandolo, e poi, cambiamo la proprietà vecchia, col nuovo valore, evitiamo questo potenziale errore, ok, cioè, questo è corretto, se noi scriviamo tutte le proprietà, però, la volta che, vado ad aggiungere una proprietà nuova, perché ho detto, uh, non ho letto bene la traccia dell'esame, c'era da gestire anche, non lo so, la data di nascita di chi ha risposto, lo aggiungo di sopra, lo aggiungo di qua, e ci sarà un posto dove me la scordo, e poi, quando me la scordo, c'è l'undefined, mi si pianta il, durante l'esecuzione, quando si apre, il professore lo testa, e, non si vede qualcosa, non compare, non so perché, vado a vedere nella console, ci sono degli errori, e così via, no, tutti questi problemi, se voi cercate di programmare, nella maniera, più, chiamiamola, future proof, cioè, a prova di futuro, a prova di quello che potreste andare a modificare, nei limiti del ragionevole, diciamo, potenzialmente, vi evitate errori, sul nascere, ancora prima che si verifichino, quindi, noi abbiamo visto, nella prima lezione, forse l'era la seconda, già, come duplicare, un oggetto in javascript, avendo un po' di esperienze nel corso, piano piano, lo stiamo anche, aggiustando, per vedere le cose, soprattutto, quelle che ci servono di più, no, sapete, che se noi facciamo, object assign, questo è un esempio, se no, potremmo anche usare lo spread, se vi piace lo spread, object assign, aperta, chiusa, graffa, il vecchio oggetto, no, e poi, un nuovo oggetto, con una proprietà, score, perché mi viene tutto, forse perché c'è tutta sta roba, da far fuori, prima, ok, con una proprietà score, che è la vecchia score, più uno, ok, quindi, abbiamo scritto la stessa cosa di prima, cioè, abbiamo creato un nuovo oggetto, ci abbiamo messo dentro, le proprietà del vecchio, e poi abbiamo aggiornato, una proprietà con un nuovo valore, ok, questo è un esempio, di come risolvere il nostro problema, mi raccomando, e non scordatevi, le graffe aperte, e chiusa all'inizio, se le scordate, questo è un errore, perché, perché le graffe aperte e chiusa all'inizio, sono quelle che creano il nuovo oggetto, se io ci metto E, E è il vecchio oggetto, se io lo metto come secondo parametro, è quello da cui si copiano le cose, ma se lo metto come prima, è quello in cui copio le cose, quindi non è che viene creato il nuovo oggetto, no, è Object Assign, non è Object Create, ok, quindi mi raccomando, e a questo punto, dovrebbe funzionare, se non abbiamo scordato nulla, quindi, proviamo, io lo ricarico, Vote, c'è di nuovo la console.on, che non avevo tolto, ma lo score, avete visto, si è aggiornato, e se ripremo, si riaggiorna, e se premo sotto, si aggiorna, e se premo ancora sotto, funziona, eh, allora, cosa sta succedendo, guardiamolo, guardiamolo anche con, col debugger di, ehm, di React, perché, il debugger di React, vi è utile, purtroppo è un po' piccolino, eh, ma, eh, se voi potete aprire lo stato, eh, lo stato, che è questo, array, vedete, se aprite, aprite il primo elemento, in posizione 0, che ha id1, e text, eccetera, score 5, io adesso lo lascio aperto, premo sul bottone vote, mi verrà fuori score 6, vedrete l'array, cioè, è lo stato che si aggiorna, ok, mi è scappato un click di troppo, ok, se era una 7, è diventato 8, ok, quindi, questo vi serve anche per debugger del vostro stato, perché altrimenti cosa dovete fare, dovete riempire il vostro codice di console.log, a destra e a sinistra, per capire cosa sta succedendo, eh, invece, per fortuna, in React, ci hanno messo a disposizione questo plugin, che è così comodo, da cui potete vedere la lista di props, ecco, e notate che nelle props, il valore è ancora quello iniziale, tre, le props sono immutabili, quel valore iniziale, che io ho passato come props, dunque, dove era, al, al my table, no, quello non cambia, quello che cambia è lo stato, ok, quindi, questo esempio, sostanzialmente, l'abbiamo, l'abbiamo terminato, no, perché, possiamo togliere il console.log, va bene, ma questo, diciamo, sono tutte ottimizzazioni, che potete fare, potete, se vi piace di più, scriverlo in forma compatta, no, un arrow function, come return, implicito, ha il valore dell'espressione, se ne avete uno solo, quindi, qui si può fare, forse sulle slider ha fatto così, adesso non mi ricordo più, però, possiamo toglierlo, e quindi, dobbiamo togliere la graffa corrispondente, allora, possiamo riformattare tutto, no, F, cos'è, I, ok, formattare tutto per bene, questa è la maniera corretta, di fare l'operazione, di aggiornamento del array, perché, devo aggiornare, cioè, devo creare un nuovo oggetto, col nuovo valore, lo faccio con la callback, e lo faccio, creando un nuovo oggetto, ok, se qualcuno ha delle alternative, idee alternative, dite pure, che oggi, abbiamo tempo, eh, però, perché è veramente importante, riuscire a capire queste cose, perché poi, se no, la vostra interfaccia, avrà potenzialmente, dei problemi, perché, cambiare lo stato, vuol dire, reagire di solito, all'input dell'utente, o caricare i dati del server, o reagire all'input dell'utente, vuol dire, che poi fate qualcosa, che non funziona, eh, ok, eh, prima di andare avanti, se avremo tempo, voglio ancora farvi vedere, qualche variante, eh, qui, ho, preso, e, id, e l'ho usato come parametro, per chiamare, la, increase score, che mi è stata passata, come props, ok, questa è una possibilità, anzi, facciamo così, vi faccio il commit, del file, ma così, chi volesse, seguire sul computer, prima di andare a fare, modifiche, eh, modifica, score, funzionante, spero, non aver toccato qualcosa, nel frattempo, ok, eh, questa è una possibilità, un'altra possibilità, è avere, una funzione, che già, automaticamente, faccia l'operazione, che deve, quindi, che non sono io, a dover dire, e, id, quindi, a dover passare, l'id che voglio, e qui dentro, il my row, ma passare, direttamente, una funzione, che, e si è già programmata, per modificare quell'id, come faccio, giusto per farvi vedere, un'alternativa, eh, non, questo funziona, va benissimo, accettabilissimo, non ci sono problemi, eh, però, eh, boh, sì, dal punto di vista concettuale, direi che, c'è poca differenza, nel senso, è questione di chi, vuole gestire questo id, se io mi fido, che il my row, lo gestisca bene, mi passi lì di giusto, va bene così, se non mi fido del my row, e voglio, controllare, il livello, di chi crea il my row, che effettivamente, la funzione, possa, aggiornare, solo quella, corrispondente, alla riga, cambia un po' le cose, cioè, io, quando, vado a passare qui, increase score, ho messo, increase score, potrei passare, direttamente, una callback, che, vada, a, modificare, solo, quelli di, no, cioè, io posso, passare, increase score, e id, perché, tanto, e id, ce l'ho, è qui, è a disposizione, come lo uso, come key, lo posso anche usare, come parametro, una funzione, no, finirà nella closure, di quella funzione, vi ricordo, no, le closure, ci servono per questo, perché, in questo momento, è visibile, quando la callback, verrà richiamata, non sarà più visibile, nello scope, ma avrà accesso, a id, e si ricorderà il valore, e a questo punto, io, qui sopra, basterà, che metta, props, increase score, ok, e l'increase score, nella row, vediamo tutto insieme, se si riesce, my table, no, non riesco, ah, chiediamo, sì, se chiediamo questa funzione, forse sì, si riesce, sì, ok, quindi, qui c'è props, increase score, e questa increase score, è una callback, che modifica direttamente, e id, cioè, io qui, non posso più scegliere, cosa fare, perché questa callback, non prende parametri, ok, ho bloccato, qui, in fase di passaggio, della callback, come attributo, al mio, my row, la callback, quindi, la, 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 la funzione, che va a fare, la modifica dello score, e potrà agire, solo, sull'id, che io ho deciso qui, in fase di passaggio dell'attributo, quindi, salvo, vediamo se funziona, non aver introdotto, pasticci, ok, quindi, mettiamo, no, premiamo, va tanto, ho tolto il console, non funziona più, ho fatto, no, ecco, funziona, scusate, ok, deve, deve finire di caricarsi, non è velocissimo, questo computer, anche perché nel frattempo, sta registrando, e quindi, è già carico di suo, però funziona, eh, e vedete che ogni bottone, agisce sulla sua riga, esattamente come prima, anche se, io qui, nel codice, non ho più specificato, su quali id, perché? perché è già specificato, nella callback, che io vado a, passare come attributo, al mio componente, ok, due alternative, abbastanza equivalenti, dipende, se volete lasciare il componente, libero di scegliere, il parametro, da passare alla, alla, in crisis score, oppure no, ok, quindi riapro la funzione, non è che è sparita, ma lo sono fatta, ridurre, per comodità, ok, c'è qualcuno che ha dei dubbi, delle domande, vorrebbe fare le cose diversamente, vorrebbe mettere lo stato, da un'altra parte, ecco, ovviamente io qui, ho uno stato, che cambia, nel momento in cui, ricarico la pagina, ritorna allo stato, iniziale, perché, se l'applicazione, si ricarica, tutto il codice javascript, viene rieseguito dall'inizio, e non c'è nulla, di permanente, ma perché, non ho modo, di avere qualcosa, di permanente, per avere qualcosa, di permanente, mi servirà, un'interazione, con un, luogo, dove posso salvare, in maniera permanente, i dati, e questo è il luogo, per le applicazioni web, e il server, oppure, in certe, ci sarà, possibilità, di salvare qualcosa, localmente al browser, ma poi, è locale al browser, se cambiate browser, non ce l'avete più, noi non vediamo, questo aspetto, perché, diciamo, un po' più, particolare, ci interessa, molto di più, interagire, con il server, cosa che faremo, un po' più avanti, perché abbiamo bisogno, poi, di quel secondo hook, perché, diciamo, per tutta una serie, di motivi, che è inutile, che perde tempo, adesso, a raccontarvi, ok, quindi, questa è una possibilità, potremmo, secondo me, potremmo, anche se non è richiesto, piuttosto che iniziare, a raccontare, dei form, potremmo provare, a implementare, un bottone, cancella, che, che è, un, un utile esercizio, quindi, vediamo un po', cosa diceva il testo, di non ci scrivere, quindi, abbiamo fatto, il vote up, abbiamo deciso, dove mettere, la funzione, per aumentare, lo score, la, la set, list, va chiamata, dentro il my table, non ci piove, no, però, la funzione, in qualche maniera, dobbiamo decidere, noi dove mettere, avremmo potuto, anche, fare una cosa, più sporca, cosa che non, mi sarebbe piaciuta, ma, prendere, la set list, e, passarla, come attributo, però, è, è, una soluzione, molto sporca, perché state portando, la, funzione, per modificare, lo stato, al di fuori, della, componente, dove, avete lo stato, e quindi, prima o poi, succede, che fate, dei pasticci, perché vuol dire, che dovete ragionare, in un altro componente, su come era stato fatto, lo stato, nel componente precedente, no, quindi, se noi, portiamo, fuori, la funzione, finisce, che non ci ricordiamo più, che era un array, che era, oppure, che aveva, certi, certi oggetti, fatto in una certa maniera, e così via, no, e quindi, diciamo, funziona, ma è molto sporco, come, come meccanismo, di, di gestione, potete provare, per conto vostro, ma io non lo voglio far vedere, perché non voglio vedere, questa cosa, all'esame, ma più che altro, ma non perché non funzioni, no, perché, perché voglio evitare, che voi passiate, un sacco di tempo, a scrivere, del codice, che, potenzialmente, produce, tanti bug, no, se non fate, molta attenzione, no, se sapete, quello che state facendo, potete fare di tutto, ma se sapete, quello che state facendo, probabilmente, fate come ho fatto io, nel senso che, le funzioni, che modificano lo stato, è bene, che stiano dentro, i componenti, che hanno lo stato, piuttosto, creiamo una funzione intorno, per gestire, che cosa si può fare, con quella funzione, che modifica lo stato, ok, questo, di aggiungere, una nuova risposta, lo facciamo poi, la prossima volta, ma io, vorrei però, farvi vedere, come cancellare, una riga, allora, prima di tutto, per cancellare una riga, ci serve, qualcosa, che ci consente, di cancellare la riga, no, perché questo bottone, aumenta, e non può cancellare, no, come faccio a cancellare una riga, devo definire, da parte dell'interfaccia utente, come far funzionare, la cancellazione, dove clicco per cancellare, quindi, nel momento in cui, introduco una nuova funzionalità, devo sempre ragionare, a livello della mia applicazione, dove ha senso, metterla nell'interfaccia, è la prima cosa, no, vi ricordate che, avevamo quel mockup, che, mi sembra fosse, cos'era, in, wick, 5, o 4, forse 4, no, 5, no, era il 4, credo, cioè, quel disegnino, dell'interfaccia, eccolo qua, cioè, qualcuno deve aver pensato, un'interfaccia, quando ha voglia di caricarsi, e dai, che era, lo schema, che, con la quale, appariva, la vista, all'utente, vabbè, proviamo a scaricarlo, non so, Ristarto, che piacere, eh, quando questi update, partono in background, aveva proprio necessità, di aggiornarsi, così, al momento, topico, eh, adesso speriamo, che almeno questo, sì, ok, quindi, qualcuno deve aver fatto, un disegnino, come faccio, la mia interfaccia, no? Poi, magari, mentre è andata avanti, decidete, non so, eh, questo non mi piace, l'ho sposto, l'aggiusto, pensavo di farlo, in una certa maniera, ma vedo che non funziona, e così via, quindi, qui abbiamo fatto, diciamo, una colonna, delle azioni, c'è solo il bottone vote, potremmo metterci, un bottone che cancella, eh, delete, oppure, potremmo metterlo prima, potremmo decidere, che cliccando, da qualche parte, qui sulla riga, si cancella, però, io vi consiglio, di fare un qualche cosa, a cui siamo abituati, è vero che lo testiamo, insieme all'esame, no? Ma se io, in generale, ho un'interfaccia, in cui ci sono delle azioni, che non sono così, esplicite, no? Cioè, io clicco sullo score, puff, e mi sparisce la riga, è un po', come dire, poco intuitivo, no? Se c'è l'iconina, della cestino, va bene, per carità, non è che sia richiesta l'iconina, mi basta anche un bottone, che ho scritto, delete, cancella, qualcosa, ok? Allora, proviamo a mettere, un primo il bottone, e poi fare l'operazione, ok? Quindi, quindi stiamo andando un po' più, a braccio, rispetto a quello che avevo preparato, ma visto che abbiamo tempo, va anche bene così. Allora, dove è che abbiamo, messo il bottone? Il bottone lo creiamo in my row, giusto? Quindi, in my row, abbiamo il button, ok, quindi qui, o ristrutturiamo la tabella, aggiungiamo una seconda colonna, un'ulteriore colonna, oppure, lo mettiamo di seguito, eh? Button, button, va, button, il b, maiuscolo button, è quello di bootstrap, react bootstrap, eh? Vi ricordo, vari, variant, mi sembra sia danger, poi, lo controlliamo, che così viene rosso, eh? Ehm, uffi, adesso, ehm, button, ok, e, si chiamano delete, salvo, ok, è appiccicato, lasciate lo spazio, insomma, adesso non stiamo a trafficare su queste cose, se no, perdiamo un sacco di tempo per, per nulla, ok? Ci sarà una proprietà di, di bootstrap, che, che gli da un po' di padding, adesso non so più, forse, p2, qualcosa così, comunque, class name p2, ma, non fa niente, non mi interessa, perché non ho tempo per questa cosa, eh? se avete i bottoni appiccicati all'esame, non succede nulla, certo, se avete del tempo, come dire, che vi resta, potete anche provare a sistemare queste due cosine, ma più che altro per voi, per il futuro, perché se andate, dal vostro cliente, con un'interfaccia così, no? Magari potete chiedermelo soldi, diciamo così, va bene, ho un click, eh, cosa facciamo? Facciamo lo stesso sistema di sopra, no? props, delete, eh, delete, row, ok? Me lo invento io in questo momento, perché non l'ho ancora scritto di sotto, allora, adesso lo scrivo di sotto, e lo devo scrivere qui, no? Delete, row, uguale, e, cosa ci scrivo? eh, scriviamo, delete, row, ma siccome non ho messo il parametro di sopra, non ho messo e, id, qui devo metterci una callback, hm? Quindi, perché devo dire quale row devo cancellare, e, id, no? Il mio identificativo lo faccio come prima, mi vado a capo così rimane visibile, e qui, e qui siamo, siamo come prima, no? Cambiamo un po', facciamo il const, const, delete, row, id, ok? Freccia, eh, sì, mettiamo le grafiche, se no, proprio non si capisce più niente, eh, quindi, set list, che cosa? Hold list, freccia, eh, hold list, filter, ok? ok? Mettiamo il punto e virgola sotto, filter, che cosa? Cioè, vi ricordo, filter, nuovo array, quindi qui siamo a posto, rimuoviamo, dobbiamo avere una maniera per dire, che un certo elemento, lo vogliamo, non lo vogliamo, quindi dobbiamo avere un'espressione che ritorna true, tutte le volte che lo vogliamo, e false, se non lo vogliamo, quindi, e, punto id, diverso, da, eh, id, che è il parametro che abbiamo passato, giusto? Spero che sia giusto, lo sto facendo proprio a braccio, perché viene fuori questa cosa, delete row, forse non ho chiuso qualche graffa, non fidiamoci mai troppo di questa cosa, però, eh, const delete, const delete row uguale, no? Ok? Però spesso sono dei buoni consigli, eh, ok? Questo cosa vuole la lampadina? Conferto name function, anonymous function, vabbè, no, a noi piace così adesso, ok? Quindi, eh, andiamo a ricaricare l'applicazione, vediamo se funziona, puff, è sparito, cancello l'ultima, cancello quella sopra, cancello tutto, finito, ok? Se ricaricate l'applicazione, torna tutto come prima, no? Vedete che la cancellazione è molto semplice da fare, no? Perché, dobbiamo solo fare attenzione, a, eh, a ritornare un nuovo array, ma se avete la filter va benissimo, no? Ehm, ok, quindi, cos'è? Sì, direi che, eh, non so se volevo farvi vedere qualcosa altro, non mi sembra, quindi, occhio solo, al, all'ID, eh, perché, giusto così, eh, facciamo una prova, visto che abbiamo, proprio un attimo di tempo, poi finiamo, che stranamente siamo un po' in anticipo, eh, se avete l'ID duplicato, è chiaro che poi, non funziona più nulla, eh, nel senso che, eh, io cancello una, no, dov'è, non ho salvato, ho salvato, se, allora, dovrebbe essere 1, 1, no, perché non cancella? Allora, questi esempi live, funiscono sempre così, per chi non cancella? Dovrebbe cancellarle tutte e due, no? ID, 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 filter, andiamo a fare il debug, così ne approfittiamo per fare il debug, eh, quindi, c'è qualcuno che ha l'idea? E diamo un punto in più all'esame, no, scherzo, perché, allora, vediamo cosa capita, negli hooks, allora, i, quindi, ID1, e questo ID1, quindi, se noi andiamo a cancellare, sulla prima, io schiaccio il delete, dovrebbe, children can be added or removed during a reorder operation, questo però è strano, non vorrei che questa fosse solo la stessa, allora, dovrebbero sparire tutti e due, no, chiudere un attimo i componenti, allora, ricarichiamo, delete, non sappiamo che fare, andiamo a vedere, mi sa che c'è qualcosa che non quadra, non lo so, non lo so, è strano però, perché dovremmo, anche col debugger chiuso, non funziona, che non dovrebbe fare reorder, noi creiamo, nuovo array apposta, prendere qualche ottimizzazione strana, che l'ho messo, va bene, se avete l'id unico, funziona, adesso ve lo lascio, uguale, e poi mi studio il problema, però evidentemente, c'è già qualcuno, che ha segnalato un bug, e andiamo a, vado poi a, a vedere cos'è, peccato, avevo concluso bene la lezione, è uscito, sfumito al bug, però, è importante sapere, che non è che sempre, diciamo, funziona tutto, sono strumenti, molto in sviluppo, react incluso, questo adesso, no, adesso ho fatto un click, di troppo io, quindi, se avete delle cose, veramente strane, piuttosto scrivete, su telegram, mettete, ecco, il solo screenshot, del codice, non sempre basta, piuttosto, se non volete condividerlo, su telegram, lo mandate per email, eccetera, se è una cosa, proprio strana, la guardiamo, e veniamo fuori, con una risposta, a meno che non sia, effettivamente, poi qualche bug, che magari, si, si, manifesta, solo in, in fase di sviluppo, perché in fase di sviluppo, si fanno tante cose in più, rispetto, all'applicazione, quando gira per conto suo, con la massima ottimizzazione, ok, comunque, questo me lo guardo, e, direi che, se non avete domande, come sembra, la prossima volta, quindi, martedì, prossimo, 8 e mezza, 8 e mezza, R1, mi sembra, parliamo dei form, e che anche quelli, richiedono un po' di, gestione particolare, in react, ok, direi che, possiamo chiudere qui, grazie, dell'attenzione, a martedì, a martedì, Grazie a tutti.